Se saltava la strada che prendeva la fratta dietro, ci prendeva fuoco tutta la casa. Invece i pompieri sono stati molto bravi, ma erano 3-4 squadre, Pesaro, Fano. Volevano chiamare anche una squadra di Senigallia se non ce la facevano. La paura non è ancora passata per queste famiglie che abitano a ridosso dell'ex cava di Carrara a Fano. Proprio qui, giovedì sera, intorno alle 23, è divampato un incendio di vaste dimensioni che ha interessato circa 6 ettari di terreno incolto. Le fiamme alte fino a 6 metri hanno minacciato due abitazioni arrivando fino a pochi metri dai cortili. In uno di questi c'era anche una bombola del gas. Signora, tanta paura ieri. Molta, molta paura per la terra così incolta, senza sistemare niente. Ci sono capriali, ci sono cinghiali, ci sono serpenti. Questo è il punto in cui sono arrivate le fiamme, per cui hanno rovinato praticamente la prima... Io ho fatto tutte le viti. Ci sono altre abitazioni comunque qua intorno? Sì, sì, è il culino, quella casa lì. Comunque anche da lui non sono arrivate le fiamme? No, non c'è arrivata. Ma qui se passava dietro, dopo la casa, fortuna che è venuto oltre qui, se passava dietro la casa, più stava anche la casa dietro. Perché la casa, sparsi da qui, se passa con la macchina e basta. Per paura che la grandine potesse rovinare i chicchi, proprio l'altro giorno i coniugi avevano deciso di raccogliere l'uva. Quest'anno l'uva invece era bellina. Dico a me che la raccogliamo prima che fa? È disastro. Dopo ha fatto il fuoco. I vigili del fuoco che sono intervenuti insieme ai colleghi di Pesaro hanno lavorato senza sosta per otto ore, riuscendo ad evitare il peggio. Il rogo, alimentato da forti raffiche di vento caldo che soffiava da sud, avanzava velocemente distruggendo tutto ciò che incontrava. Questo è quel che resta dell'incendio, una nera collina di cenere. Mi sono svegliata che mio marito ha risposto al citofono alle nipote e dopo io ho detto, ma qua c'è? Ha detto, c'è il fuoco, ardi il fuoco. Però per fortuna il vostro terreno non è stato coinvolto dalle fiamme? No, era tutto di sotto. Suo marito invece dov'era? Lui è tornato dal bar e le nipote l'hanno chiamato. Ha detto, arriva il vigili del fuoco, ha detto, non vi l'armate, c'è l'incendio. L'altra volta è venuto a ardere tutto qui a turno. Secondo alcuni testimoni, proprio in questa zona molte coppiette vengono ad appartarsi spesso. E c'è chi ipotizza che le fiamme possono essere divampate da una cicca di sigaretta gettata o spenta male. Se ci spostiamo sulla carreggiata possiamo appunto notarne già qualcuna. Ecco, ad esempio qui vediamo una cicca di sigaretta e quel che resta di un accendino. Se facciamo ancora altri passi ne troviamo altre due, eccole qua, una e due. E sono davvero a pochissimi metri di distanza dal punto in cui è scaturito l'incendio. Guardate. Sull'origine dell'incendio stanno indagando i carabinieri, ma non è stata ritrovata nessuna fonte naturale di innesco. È quindi esclusa per ora l'ipotesi dolosa. Si fa sempre più larga, invece, quella di un mozzicone di sigaretta gettato incautamente sulle sterpaglie.